Ciao a tutti ragazzi bentornati su Lost Island nello scorso giorno che avevamo lasciato qui anche a leone e oggi saliremo un po' io ho già sfondato una barca o spada a spada alla mano perchè sento dei ruddi ct. cozzo pure io si può scavolcare non si può scavolare non si può scavare c'è il coso penso che c'è quello che passa si va beh sì ma io sto non riesco a stare sulle cazzele scali ma chi è la via librerie il box tutto spacco e librerie poter spaccate che c'è il coso non c'è un cazzo che figlio vero anche troppo il box il cilindro spagna ma faccio ci vanno troppi libri con città sto andando all'area cargo sotto sotto no c'ho paura allora ci sono delle sbarre di ferro le rubo oh ma i portelli qua oh 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 aspetta non c'è di là cos'è un po' allora questi sono l'equipaggio il cio non lo attaccare perchè sono i pigmen i pigmen zombie se non li attacchi questi non te canna da pesca che buco non lo facciamo neanche qua a farla allora io ho trovato delle carta delle armature prendi le armature spalle spalle di legno ma ma cagare prendi prendi quello prendi anche i pantaloni cipo i maiali ma vai via non li attaccare per la morte di dio no ma c'è nessun tropico c'è uno spawn qua c'è uno spawn di qualcosa c'è uno spawn di qualcosa calice ma maiali oppure questi qua che camminano eh quelli che camminano si pezzenti di allora io scendo giù che cazzo è stanno spondi gli scheletri qua però dove ho uuuuh uuuuh cazzè devostante devostante questo qua finale ma già bloccati gli scheletri si si va fuoco da qua i diamanti non vedo c'è stai dei miei blocchi caccotto ma co ascoltami se faccio uno spazio qua sopra perchè eh eh vera uuuuh porca rubo 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 porca puttana polvere di pietraluce cazzo è ascoltami fammi un favore adesso aspetta un attimo allora adesso mi metto l'equipaggiamento così mi ci sta tutto e sicuramente ci sarà da roba sì cioè io quando ho mai chiamato te stavo esplorando l'area cargo brutto porco m m la vita cazzo maiali de brusi via sono tornato all'area cargo 4 4 io ho 20 questi maiali all'acqua rubo il melone ma se non è il melone è cocomano no ah non so non lo vedo il cuore sbaglio sempre carco a ciao a zucca bella stana è fatta veramente bene non non c'hanno palle di fare le navi una porta spaccata lo spaccato io guarda che c'è che fa i funghi funghi e però no ci sono tutti e due tipi grande ci possiamo fare le zuppe con questi eh scolta c'è un maiale con sotto ma ti cavi dai maroni ma vai via ma non posso fare la casa se stai lì la casa la casa devo mettere giù dei blocchi mezzo i coglioni eh spada di ferro rubo adesso nel castro lì che non si muove più ma guarda ma guarda ma guarda ho rotto il culo senti come mugisce si ma come faccio a togliere oh fuori dai maroni vai via ma cosa salta vai via ok fuori e palle bene ok io non capisco perchè te sta ancora qua sotto con gli zombie so caduto giuro hai visto che c'è caduto anche te scusami dovevo rimettere giù dei blocchi per rifare la stradina ma ma mi stanno iniziando nervosendo sti cammini sa che ti picchio fra poco no t'ammazzo le fanno una gang bang allora qua c'è dopo il mondo test su qui è senza il cazzo e c'è allora delle forbici ciacca ci sono io libri accetta ciarino un quadro quattro il quadro rupo ai quadri rupo ai quadri i quadri per il quadri cazzo c'è sono altri e quattro ci faccio il buon mille oh qua c'è un bel casco da mettersi in testa marda non so che dar via per prendere altra roba qua stivali dai ragazzi va qua pieno di fornaci devastanti ma guarda qua quanto pane c'è pesce crudo pollo ma tuvi qua cucina eh zuppa di funghi biscotti e qua cos'è sta roba non lo so che materiale è e qua possiamo farti le robe però già allora aspetta se si spacca una fornace me la da intera o meno mi si spacca se la da intera perfetto io do via i pezzi di legno mi rubo questo poi tutte ste robe qua arbuscelli ma che ci devo fare rubo le mele pane maiale ah si aspetta il pasto c'è una porta da tengo quella no la c'è portatilegno la getto poi di stecche poi getto anche i tre diamanti getto ehm senti io la giuppola dei funghi me la magno e anche perchè non puoi non puoi metterle assieme cioè nel senso non semplino infatti il pollo si e anche le uovo guarda e non riesca a prendere altra roba io credo che le due funghi e anche io mi sa che ma si spera del resto mi metto il casco sono un cratino sono un pezzo di legno sono spada di ferro no ma voglio infatti una spazio spaccato con le cordicelle il pesce lasciamo qua non ci facciamo nulla lo ce lo peschiamo noi e le uova prova a prendere le uova magari nasce qualche pollo lo alleviamo sai che se le tiri in terra nasce il pollo capita che nasce un pollo sì bene adesso che cazzo facciamo qua mi sta meno notte io devo tornare indietro non c'è più nulla eh in teoria no vediamo qua no ah no aspetta qua c'è un mega quadro ho rubato qua uuuu orologio disco musicale bussola bene orologio disco musicale la bussola non mi ci sta quadro 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 uuuu spada d'oro stivale di ferro e mela d'oro vabbè i tesori vieni 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 allora questo piccone è spaccato non lo voglio più venite gli stivali di ferro ce n'hanno due mio e me li metto adesso ce la fai a prendere i quadri? sì sì ne ho presi un po' qua ce n'è un altro qua c'è un altro chi è qua qua c'è un chec... no accettava bianco questo mi sa che è cos'è? la merda non mi dica è quello che penso io eh boh l'ho preso vediamo cos'è blocco di ferro ecco c'è abbiamo nove blocchi nove lingotti di ferro con quello very good poi vuoi jukebox? sì sì jukebox prendi prima vabbè le torce diamole via non c'è più spazi eh ma neanche io mi sa che non posso tenere due jukebox cioè impidarli in un po' l'altro non so che dar via la piuma andiamo via la piuma i libri ne ho 56 oh ok vabbè vabbiamo questa merda di acqua chiusa poi c'è un'altra bussola eh la bussola si no no c'è un'altra eh c'è la bussola non l'ho presa non ci stava io sono pieno non chiedermi niente sono pieno guarda io mi mangio le due mele ma so pieno pure io vabbè torniamo indietro dai io cioè io ti guardo sembri un pirda vestito così che schifo che schifo e qua c'è c'è una nave una nave una barchetta uh c'è un'isola innevata lì è vero è figo beh vai ci torneremo adesso non non serve ok quella lì sotto è la mia barca eh aspetta che posiziono la mia tuffi mappa e via oh che cazzo no aspetta è successa una cosa di bruttissimo mi sei rotta la barca no è andata là in fondo tipo c'è una barca in mano volevo salire su quella invece di salire l'ho piazzata una soprallata sono schizzate via vabbè una si è scagliata contro la barcona di gigante e si è rotta e l'altra è volata qua vai 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 studio adventure ah shit adesso ritroveremo il pollo e il maiale felici tristissimi poverini dici che stanno ancora qua papo è probabile non prendono fuoco vero perchè un po' così eccolo lì dice il pollo eh ma lo sai se se riesco eh infatti l'ho vista ecco qua se riesco a costruire del grano me li porto appresso eccolo dici te c'è render lontano vero? mmm no normale dovrei avere guarda che belle le meduse te oh figli di puttana mi hanno spinto piano di zombi oh ma dove vado dove sei? ma che cazzo? ma che cazzo? ma che cazzo è? c'è un buco merlo merlo c'è un buco mi distrucce mi distrucce parco di squat qua come c'è c'è un foro qua proprio no quando sono io quando sono io un buco con una cascata a caso io vado paura vado via ma che cazzo è? mi spingi e c'è la guarda oh ho trovato tipo qualcosa aspetta aspetta che arrivo con la cosa della lava sotto non capisco dove sei ah lì ok 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 guarda perchè c'è della luce discusami dove? qua no aspetta che prendo la spada perchè cosa c'è qua? non lo so mi era aperto così scusami no cioè si era aperto così comunque dai ragazzi che cosa c'è in questa grotta se è una grotta lo scopriremo nel prossimo episodio di Lost Island un saluto da Nevermind ciao ciao un saluto da Krieg ciao a tutti ciao a tutti